Le migliori offerte Windows, dove trovarle? Guida alla scelta delle migliori offerte Windows, dove trovare e come acquistare al prezzo più basso con la garanzia di non incorrere in alcun problema durante e dopo l'attivazione del prodotto. Aziende, professionisti e utenti privati sono spesso alla ricerca di licenze Windows a prezzo competitivo. Il sistema operativo Microsoft resta il più utilizzato a livello mondiale in ambito desktop con il 75% delle quote di mercato, fonte. 2. Global stats, settembre 2022. Se in ambito data center la parte del leone la fa Linux, sono tante le imprese che si affidano a Windows Server e a Domini Active. Directory per la rete aziendale, vedere i dati condivisi su Fortune Business Insights, trovare le migliori offerte Windows senza essere legati al fornitore con contratti pluriennali tutt'altro che economici non è semplice. Come non è facile individuare le migliori offerte software da rivenditori affidabili. Acquistare una licenza Windows 10, al momento il sistema operativo più usato al mondo con il 72% delle quote di mercato in ambito. Windows, o una licenza di qualunque altro software non significa semplicemente comprare un product chi valido. È bene scegliere rivenditori che possano certificare la provenienza della licenza Windows 10 o di qualunque altro software assicurando che essa sia legittima e genuina al 100%. Le imperdibili offerte Windows di oggi Un vero e proprio punto di riferimento per l'acquisto delle licenze Windows è diventato MR Keyshop, azienda leader da oltre 18 anni. Nel mercato delle licenze software a prezzi vantaggiosi. Scegliendo una delle offerte Windows su MR Keyshop si ottengono una serie di benefici concreti. Spedizione licenza immediata via E-mail assistenza tecnica specializzata gratuita in italiano Pagamenti sicuri Istruzioni chiare e complete per il download, l'installazione e l'attivazione di ciascun software acquistato risparmi sui prodotti originali e fino al 70% garanzia soddisfatti o rimborsati online. È infatti possibile trovare product chi per attivare Windows a pochi spiccioli. Quei codici, tuttavia, non trasferiscono all'utente alcuna regolare licenza. Spesso si tratta di product chi rubati oppure collegati a licenze a volume che non danno alcun diritto e che anzi espongono a rischi sul piano giuridico. Le licenze Windows acquistabili su MR Keyshop sono tutte verificate e provengono da fonti attendibili. Solo in questo modo MR Keyshop può certificarle come genuine al 100%. Se si fosse appena aggiunto un nuovo PC, una workstation, un server al proprio parco macchine e non si avesse a disposizione una licenza. Se si fosse assemblato in proprio un computer, se la licenza di Windows sta per scadere, su MR Keyshop è possibile trovare le migliori offerte Windows 11 Oltre a tante occasioni di acquisto su tutti i principali sistemi operativi e software Microsoft così come di altri produttori, le migliori offerte Windows 11 Il più recente sistema operativo di casa Microsoft, rilasciato all'inizio di ottobre 2021, è Windows 11. Si tratta di un sistema che presenta diversi cambiamenti rispetto al predecessore. Su MR Keyshop si possono trovare le migliori offerte per acquistare Windows 11 Licenze di Windows 11 Oma, Pro ed Enterprise a 64 bit Con Windows 11 Microsoft ha deciso di interrompere la distribuzione delle release a 32 bit Sono disponibili a partire da soli 49,99€ in promozione Il vantaggio è quello di poter comprare anche licenze delle edizioni Pro ed Enterprise, utilizzabili in azienda, spendendo fino al 70% in meno rispetto ai prezzi di listino L'edizione più economica del sistema operativo è Windows 11 Oma, progettata per gli utenti privati, manca di alcune funzionalità Integrate in Windows 11 Pro ed Enterprise Anche se è possibile aggirare questa limitazione, Windows 11 Oma si installa solo con un account Microsoft e non con un account locale Inoltre non supporta la virtualizzazione con Hyper-V, anche se è possibile installare Hyper-V in Windows 11 Oma, Windows Sandbox E non permette la creazione di un server di desktop remoto, è possibile usare solo il client per collegarsi a server remoti Inoltre, non è possibile proteggere intere unità, compresa quella di sistema, con BitLocker In Windows 11 Oma non è inoltre possibile accedere all'editor dei criteri di gruppo, alla funzione di Dynamic Provisioning Cain Azienda permette di configurare automaticamente un nuovo PC, alla modalità Kiosk Mancano inoltre il supporto per Active Directory, per SMB Direct, per la tecnologia Persistent Memory oltre ad altre funzionalità Di taglio spiccatamente Business L'edizione più apprezzata tra professionisti e utenti più evoluti, anche in azienda, è Windows 11 Pro Con questa edizione di Windows 11, il sistema operativo può essere installato e usato anche soltanto con un account locale E si può crittografare anche l'unità di sistema con BitLocker, cosa utilissima nel caso in cui si dovesse perdere il PC o esso fosse fisicamente Nella disponibilità di utenti non autorizzati a verificarne il contenuto Windows 11 Pro assicura inoltre pieno supporto per la virtualizzazione Hyper-V, per i server di desktop remoto, per accesso assegnato Ovvero una funzionalità che permette di stabilire quali attività e applicazioni sono accessibili con ciascun account impostato sulla macchina Questa edizione di Windows 11 supporta inoltre i domini Active Directory e tutti gli strumenti spiccatamente Business Dal punto di vista pratico, Windows 11 Pro offre di default la possibilità di posticipare gli aggiornamenti tramite Windows Update e di effettuare il boot da file VHD, VHDX Infine, Windows 11 Enterprise è l'edizione indirizzata alle aziende Oltre a tutte le caratteristiche di Windows 11 Pro, consente di utilizzare il file System.Refse AppLocker Meccanismo per il controllo delle app e dei file che gli utenti possono eseguire Uno degli aspetti più rilevanti di Windows 11 Enterprise è il supporto degli aggiornamenti di sicurezza di ogni singola versione Feature Update annuale, per 30 mesi anziché 18, un bel vantaggio per le imprese che cercano stabilità e sono meno interessate all'aggiunta di nuove funzionalità In un altro articolo abbiamo visto come scaricare Windows 11 ISO ovvero l'immagine della versione più aggiornata del sistema operativo A partire dal file ISO si può aggiornare il sistema in uso, generare un supporto avviabile per l'installazione di Windows 11 o caricarlo In una macchina virtuale Hyper-V, VMware, VirtualBox e così via La pagina Download di Windows 11 contiene anche gli strumenti per aggiornare direttamente al nuovo sistema operativo o creare un supporto Per l'installazione e creazione di supporti di installazione di Windows 11 o Media Creation Tool In generale, le novità Windows 11 spaziano dall'interfaccia fino ai componenti software di livello più basso In termini di design, innanzitutto, Microsoft ha introdotto in Windows 11 l'evoluzione di quel fluent design che non è mai decollato Davvero con Windows 10, Mica, ad esempio, è un elemento che permette di applicare colori solidi allo sfondo di diverse applicazioni E finestre, anche i programmi più vecchi sembrano molto più integrati con l'interfaccia e l'aspetto generale di Windows 11 Le finestre presentano bordi arrotondati e in generale l'esperienza d'uso appare consistente e piacevole Windows 11 posiziona centralmente le icone nella barra delle applicazioni, propone un nuovo menu Start che abbandona le piastrelle O Tile, gli Snap Layout per disporre in modo ordinato e affiancare le finestre aperte sullo schermo, una migliore gestione dei desktop virtuali Windows 11 è inoltre molto più abile nel migliorare l'utilizzo di tablette convertibili rilevando automaticamente la modalità d'uso E adeguando la struttura dell'interfaccia Altre innovazioni in questo campo sono attualmente in cantiere Pensiamo ad esempio alla barra delle applicazioni compatta Sul versante applicativo, oltre a una serie di programmi di sistema completamente rinnovati rispetto a Windows 10 Si pensi alla stretta integrazione con Teams, al nuovo lettore multimediale, all'app foto, posta, al video editor ClipChamp Il nuovo sistema propone un Microsoft Store riprogettato che contiene applicazioni inedite, che ospita ad esempio anche programmi Win32 e che si apre ai negozi di terze parti A questo proposito, tramite il Microsoft Store è possibile installare Amazon App Store, la porta d'accesso per l'installazione e l'esecuzione di app Android in Windows 11 Sul versante della sicurezza, una delle novità più importanti è il supporto per il chip TPM 2.0 che consente di memorizzare in hardware anziché lato software informazioni riservate come ad esempio le chiavi crittografiche Aspetto essenziale per proteggere adeguatamente le unità il cui contenuto risulta cifrato con BitLocker Le migliori offerte Windows 10 Come osservato nell'introduzione, Windows 10 è il sistema operativo Microsoft più utilizzato e quello più usato in assoluto Dopo il progressivo abbandono di Windows 7, da quando è terminato a gennaio 2020 il supporto esteso, Windows 10 è divenuto il punto di riferimento per la maggior parte delle imprese italiane Windows 10 viene infatti considerato come il sistema operativo Microsoft più maturo e più stabile Sarà supportato con il rilascio di aggiornamenti di sicurezza ufficiali almeno fino a ottobre 2025 in tutte le sue edizioni Da quella data, poi, Microsoft varerà certamente il programma ESU Extended Security Update, di durata almeno triennale Fino a ottobre 2025 Microsoft si impegna a rilasciare un aggiornamento delle funzionalità feature update, per Windows 10 a cadenza annuale e ciascuno di essi viene supportato, nel caso delle edizioni Home e Pro, per 18 mesi Per maggiori informazioni, è possibile consultare le date di fine supporto di Windows 10 Acquistare Windows 10 Professional in offerta è quindi un'ottima scelta Da un lato ci si assicura un sistema operativo ormai affidabile A un prezzo davvero contenuto, dall'altro si lascia la porta aperta a Windows 11 In qualsiasi momento è infatti possibile passare a Windows 11 gratis, basta accettare l'offerta di aggiornamento presentata nella finestra di Windows Update Utilizzare l'assistente per l'installazione di Windows 11 oppure cliccare due volte sul file setup EXE contenuto nel file ISO di Windows 11 In alternativa si può fare doppio clic sul file setup EXE contenuto in un supporto avviabile creato utilizzando Media Creation Tool Pulsante scarica ora in corrispondenza di creazione di supporti di installazione di Windows 11 Oppure servendosi di altri strumenti, ad esempio l'utilità Rufus Su MR e KeyShop, oltre a Windows 10 Pro in promozione È possibile acquistare Windows 10 Home al prezzo più basso di sempre Qualunque edizione si decida di acquistare e installare è in ogni caso possibile aggiornare da Windows 10 a Windows 11 Per installare Windows 10 da zero, invece, è possibile scaricare Windows 10 ISO La pagina Download Windows 10 sul sito Microsoft consente di aggiornare un precedente sistema operativo a Windows 10 con l'assistente Aggiornamento Aggiornamento di Windows 10 Scaricando e avviando il Media Creation Tool di Windows 10 Pulsante scarica ora lo strumento È sia possibile aggiornare a Windows 10 che creare un supporto di installazione Entrambi gli strumenti sono utili anche per aggiornare un'installazione di Windows 10 all'ultimo feature update disponibile Le migliori offerte Windows 7 e 8,1 Windows 7 e Windows 8,1 sono ormai sistemi operativi piuttosto datati Il periodo di supporto esteso previsto da Microsoft, rispettivamente È terminato a inizio 2023 e si concluderà a gennaio 2023 Chi tuttavia avesse l'esigenza di mantenere in vita alcune macchine che usano configurazioni hardware superate Può comunque trovare su MR e KeyShop anche licenze di Windows 7 e Windows 8,1 a prezzo fortemente scontato A partire da 19,99 euro Seguendo una semplice procedura, è addirittura possibile passare da Windows 7 a Windows 11 senza sborsare un centesimo Basta soltanto un po' di pazienza L'offerta Windows 7 e Windows 8,1 di MR e KeyShop potrebbe essere utile anche per gli utenti che lavorano di frequente con le macchine virtuali e hanno la necessità di regolarizzare tali installazioni Acquistare le migliori offerte Windows su MR e KeyShop A differenza di quanto accade con iniziative come il Prime Day di Amazon, le offerte Windows 11 e le altre promozioni software su MR e KeyShop permettono di accedere a prezzi scontati fino al 70% tutti i giorni dell'anno Tutte le licenze acquistabili su MR e KeyShop sono originali, genuine al 100% e garantite a vita Il Product Key Windows 11 o Windows 10 e la relativa licenza, se abbinati a un account Microsoft, resteranno legati con quello stesso Account, reinstallando Windows sulla stessa macchina la licenza viene automaticamente recuperata e ripristinata senza bisogno di digitare il corrispondente Product Key Accanto alle licenze Windows, lo store di MR e KeyShop permette di approfittare delle migliori offerte Office a prezzo scontato e di Abbinare sistema operativo e suite per l'ufficio Microsoft in versione stand-alone senza dover versare alcun abbonamento mensile o annuale, a uno dei migliori antivirus 2022 e ai servizi VPN più affidabili e sicuri Le aziende possono trovare anche interessanti opportunità di acquisto accedendo ai pacchetti Microsoft Windows Server in promozione Per i professionisti e le imprese acquistare Windows Server, licenze Kale SQL Server da rivenditori affidabili è ancora più cruciale 2.MR KeyShop sa venire incontro a queste necessità emettendo fattura fiscale per ciascun acquisto